Il sindaco facente funzioni di Castellabate Luisa Maiuri ha appena firmato l'ordinanza numero 57 del 29 ottobre 2020 che dispone alcune misure da seguire per l'accesso al cimitero comunale di Castellabate in occasione della commemorazione dei defunti con il prevedibile notevole afflusso di cittadini. Il cimitero resterà aperto nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre, ad orario continuato dalle ore 7.30 alle ore 17.30 per evitare la concentrazione di troppe persone simultaneamente. L'ordinanza prevede come ulteriore misura di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria l'ingresso contingentato dei visitatori che verrà garantito dalla presenza del personale della Polizia Municipale, della Protezione Civile e del Servizio Cimiteriale. Il varco d'ingresso del cimitero verrà utilizzato esclusivamente per l'entrata, mentre l'uscita dovrà avvenire obbligatoriamente dal varco laterale in via casale. A tutti gli utenti verrà misurata la temperatura corporea, verrà inoltre sempre verificato il rispetto del distanziamento sociale, l'utilizzo corretto della mascherina. Nelle cappelle cimiteriali l'accesso contemporaneo è consentito ad un massimo di cinque persone. Si vieta inoltre qualsiasi assembramento presso tombe, loculi, edicole e cappelle cimiteriali e per permettere a tutti di poter accedere al luogo sacro si raccomanda la permanenza all'interno per un massimo di 30 minuti. D'intesa con i parroci Don Roberto Guida e Don Pasquale Gargione e in ottemperanza delle indicazioni impartite dalla curia diocesana, nei giorni richiamati non verranno celebrate le messe all'interno della cappella maggiore della società a mutuo soccorso. In un momento così sentito per far visita ai defunti dobbiamo garantire accessi in sicurezza e nel rispetto del protocollo Covid, dichiara il sindaco facenti funzioni, Luisa Maiuri. L'invito resta quello di seguire le buone pratiche raccomandate per tutelare la salute di tutti.